Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio termometro politico di oggi, domenica 20 ottobre 2024, sulle elezioni regionali Umbre. Chi pensa di votare come presidente? Donatella Tesei centrodestra avrebbe il 49,1%, Stefania Proietti centrosinistra in Movimento 5 Stelle, 43,4%. Marco Rizzo, democrazia sovrana popolare, 5%. Martina Leonardi, potere al popolo, mezzo punto. Moreno Pasquinelli, fronte del dissenso, mezzo punto. Francesco Miroballo, Umbria autonoma, mezzo punto. Tutti gli altri messi insieme, 1%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Arrivederci e grazie.